oggi devo ho chiesto aiuto intanto buongiorno per presentare la persona buongiorno si buongiorno no no ma anche perché era tutto fatto quando la televisione è rovinato no ma arrivassi un po più meno più avanti a me me la fa tanta lunga lo conosci questo signore no io sono io sono venuto qui ora mangiare un panino a prosciutto e gli ho detto a federico vi porti una fetta di prosciutto ma me l'ha tagliata male me l'ha fatta tutta agli scalini tutta sì sì non lo sa tagliata ero venuto apposta è anche apposta contro la cincilla come si è comportato malissimo si comporta sempre male ma io mi comporto bene ho parlato anche col prete mi ha detto ma che prete come faceva questo come che faceva te l'ho detto la vinsegna faceva i pacchi riempiva i pacchi di carta non ti ricordi ti ricordi o no vabbè però non sei un cazzo tu sei uno strozzo un coglione salama spenta no cesta di cazzo no ma tu